L'esecutivo del CIO ha sospeso il Comitato Olimpico Brasiliano e il suo presidente, Carlos Nutzmann, arrestato ieri. La decisione è stata presa alla luce dell'inchiesta sulla presunta compravendita di voti fra i delegati alla sessione CIO che nel 2009 dovevano assegnare i giochi 2016, aggiudicati infine a Rio de Janeiro. Il provvedimento, si sottolinea, non avrà alcun effetto sugli atleti brasiliani.